Oh hell no! Fanculo crociato ma... Non c'era questa cosa Il Togobomb e Cesabi non è più tra noi Non è più tra noi Non è più tra noi Ma attiva di fare i venti No per te Attenzione! Il video che state per vedere è stato realizzato da troller professionisti e contiene scene esplicite di trolling, fail, bug, MLG e funny moment, che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni spettatori Bad Company in Italy non si assume responsabilità di eventuali infarti o morti da ridere. Vi sconsigliamo per la vostra incolmità a non riprodurre queste pericolose scene Vi invitiamo a lasciare un like, un commento e a condividere il video con i vostri amici Buona visione! Bella tu di compagnia con il vostro archiezzo che vi parla bentornate con un nuovo video Oggi ci troviamo con l'episodio 15 di Roto Trolling davvero unico nel suo genere perché di fatti oggi ci sarà un Team Deathmatch con cui sta unicamente trollando Sì, avete capito proprio bene Praticamente ci siamo divisi in due squadre da tre giocatori l'una e ci siamo sfidati l'una controllata su una conquista in Isola di Charge dove lo scopo sarà vincere ma ci si potrà uccidere solo ed unicamente trollando Dunque potete ben pensare cosa succederà in questo video tra trollate, bug, fail insomma succederà di tutto Vi chiedo come solito di arrivare a 80 like se il video vi è piaciuto e soprattutto farmi capire che questa idea vi è davvero piaciuta e magari ci organizziamo per farne un'altra insieme a voi ovviamente e in più ci tengo anche a ringraziarvi di cuore e di tutto il supporto che mi state dando ultimamente perché davvero siete fantastici Detto questo io vi lascio il video e buona visione! Fate una cosa Che sta conquistando? Porca puttana ti in culo se non stai zitto Ma non dovete conquistà però Ti in culo se ti conquisto Oh Prima di tutto fate un saluto generale Ciao 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 Un po' più mondo Ciao Ciao Bene a tutti ragazzi Buongiorno Ma che stanno andando in giro con il botteo Mirko Oh vabbè Comunque allora ragazzi da adesso in poi parte il team that match Only Trolling Gli ho fatto il marker! Mattia, non vale a sparare con l'armi normale Questa è la penitenza! Io mi rischiero, con questo kit non posso far sta roba Ora ti è pepe, ti è pepe Oh, è quello! Sì, si è bruciato! Vieni qua, ciao! Oh, si! Oh, get a wreck di mio fratello! Oh, no! Ciao, Cess! Non ti ho visto, bastardo! Hai visto che roba? Seriamente, a parte Cess, chi l'aveva visto non ha detto niente Perché io sento la puzza? Ma che sei schiantato cercando di colpirmi? No, 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 non mi investire con l'F35 No! Vedi? Ma... ahahahah 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 non dobbiamo no vabbè come cazzo hai fatto no vabbè Mirko che fa le kill no eh si vede dell'aria o' una mica ma io ahahahah chi è che sei schiantato sull'occhio? io che bombe ahahahahahah ce l'ho fatto grazie agli oc4 nooo vieni Mirko vieni ciao dieci dieci Mirko Ricordati Mirko, io sono tuo fratello, non mi potrai mai battere in giochi Qualcuno mi ha sparato un M320 a tosso, ve lo dico Crociata di merda dove stavi camperando No, usa stodici, non puoi Allora Mi è caduto su una buccia di banana Mi è caduta Ma scusa, ma sarà caduta a due metri se ho slogato la caviglia Oh, hell no Fanculo crociata Non c'era stocco Il Togobomb e Cesare non è più tra noi No No Fatti la di treventi No God, please no 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 Ti sei Sucidato, a me non mi hai fatto nemmeno danno Scandaloso Io intanto ho ucciso mio fratello Ho ucciso mio fratello lanciandogli addosso il mio aereo No Ha beccato il palo invisibile No, ha preso la bandiera No 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 Ciao Ciao Mattia Che troll Dovete guardare il jet che ha parcheggiato uno che è crociato Cioè 5 stelle sono per il parcheggio 5 stelle Faremo un montaggio di come ha parcheggiato Get Rekt No Bella questa Bellissima Fortuna No No Cazzo No 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 Mattia non mi hai preso una volta No Hai disparato tipo 8 caricatori Perché c'è una casa sospesa sul muro Come se spesa il muro Tu devi vedere questa Oh Oh Che Io di tua madre Sii Ce l'ho fatta Mattia Io di tua madre Mattia Crociato No No Tu che facevo volevo farti sapere Bellissima Io ho detto Crociato sei voltato mi ha trovato davanti Tipo surprise motherfucker Eh Tento dietro Tento dietro Si si Rizzi Tento dietro 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 Mi sono incastrato nella porta Ciao e arrivederci Alla prossima gente Ciao Mirko Ah Non si sta calvendo in avanti Oh oh Mi devi trovare un'altra volta sulla porta Si 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 Bendetta vera Non finirò in galera Un ge Un cazzo Ah Avete visto il gente dove si è schiatato? Si ma non è esploso è qui parcheggiato fermo immobile No 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 Si Nooo che levno No 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 Sì 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 Unentica giornata per Dead Company No questa cosa non mi piace Eh no Maria io esco No no Vede se davo aspetta No che culo Ciao Crociato Se ti dico di morire Te devi morire Crociato Voi dovete capire che io sono Troppo un mostro nel lanciare aerei O veivoli No 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 mi sparare Ma ti aiutiamo Ma ti aiutiamo Ma ti aiutiamo C'è chi dice Maria no io esco C'è invece che dice Maria ti amo C'è posta differenza Ehi dog bomb Porca puttana era appena responato Siete scemi Permese Siete scemi